nell'analizzare la nostra quotidianità abbiamo scoperto che avevamo ben 45 diversi diverse tipologie di cuscinettamento sulle nostre viti a sfera erano completamente dipendenti dal tipo di macchina quindi non assolutamente non disegnati o progettati in maniera indipendente della tipologia di macchina avevano sia un design differente che sistemi di lubrificazione differenti sia dimensioni differenti lavorando sulla modularità e analizzando quali erano le necessità dal punto di vista dei nostri clienti di masse da spostare corse da fare con i nostri assi abbiamo visto che in realtà era possibile sostituire queste 45 soluzioni con una e vi assicuro che oggi è così andando avanti vediamo analogamente la viti a sfera quindi l'elemento rotante che permette la traslazione avevamo 39 tipologie diverse con 139 varianti legate alla lunghezza oggi siamo riusciti a portare queste 39 varianti a 5 varianti e moltiplicate poi per alcune per alcune lunghezze in sostanza anche qui avevamo soluzioni che erano diverse ma non per delle reali necessità semplicemente per un'abitudine un'attitudine dei progettisti a ragionare non in maniera olistica ma sostanzialmente solo per quel progetto quel prodotto quel progetto che in quel momento stavano sviluppando